Io voglio continuare a fare politica, non ho nessuna inimicizia o particolare amicizia, la politica è un'altra cosa. Forza Italia ricomincia a dialogare sulle riforme? Sì, io credo che dovremmo ricominciare a dialogare sulle riforme. Una nostalgica del Nazareno? Non sono una nostalgica del Nazareno, sono una nostalgica di fare delle riforme che il Paese chiede da vent'anni. Quanto è pesato oggi la giornata della Cassazione? È inutile dire che non pesi, pesa perché naturalmente tutti dovevamo dimostrare una vicinanza al Presidente Berlusconi e l'abbiamo fatta, ripeto. Ad alcuni è costato politicamente molto più che altri, ma abbiamo dimostrato l'assoluta lealtà e vicinanza che ci legherà sempre al Presidente. Tutti si aspettavano un arcobaleno, probabilmente oggi Forza Italia ha avuto il voto più uniforme che avete visto negli ultimi mesi.